Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video uncut, per chi non conoscesse la tipologia di video che cos'è un video uncut è semplicemente un video in cui io parlo a ruota libera di un argomento che ho in testa senza particolari tagli, senza particolari editing, tendenzialmente nessuno ma poi ovviamente possono succedere delle cose in fase di registrazione che mi portano a editare. Sta di fatto che oggi stiamo a fare un video un po' meno pesante all'apparenza di quello che era il video della volta scorsa in cui ho parlato del page della community, ve lo linko nelle schede, ma parliamo di un argomento che sto covando da un po' di tempo, da moltissimo tempo a dire la verità e che non ho mai trovato l'occasione di esprimere così direttamente se vogliamo in un video. E l'occasione mi si è presentata giovedì 25 luglio, ora non so quando vedete questo video, ma giovedì 25 luglio ho caricato la mia teoria Pokémon su Pokémon Spade e Pokémon Scudo, che di fatto riprendeva la mia precedente teoria. Vi linko anche quella nelle schede, a sto punto facciamo l'unpline. E l'ispirazione e la contestualizzazione di questo video è venuta fuori da un commento. Metto le mani avanti, io non ho nulla contro questo commento in sé, non ho nulla contro una persona e questo video non è un video risposta a questa persona perché, come vi ho già detto, è una cosa che penso da tempo. Questo è stato, è stata l'occasione, ecco, per esprimere quello che vi sto per dire. E quindi non ce l'ho né con la persona che ha scritto questo commento, né con il ragazzo citato al suo interno, adesso capirete. Ce l'ho qui il commento, ve lo leggo e poi parto a discutere. Sotto il video teoria per l'appunto. Creepy chiedo scusa ma devi sapere che la mitologia non rena con Galar, c'entra poco e nulla. I lupi sono ispirati ai tesori imperiali giapponesi, la spada imperiale, lo specchio e una gemma. C'è un ragazzo che ha spiegato bene la questione, se vuoi ti dico il nome del video. La teoria è molto bella e ben fatta, scrivo questo commento per dire a te e a tutti gli altri di lasciare la mitologia non rena. Scusate, non volevo essere scortese e invadente, dico solo che ci sono teorie ben più esatte e migliori, scusate ancora. Intanto sei scusato, ma non c'è niente di cui scusarsi, hai espresso un parere e va benissimo. Tra l'altro, scusate il casino, tra l'altro io vi linko qui sotto in descrizione il video di questo ragazzo che ha connesso, come ha già detto il commento, Zaziene e Zamazenta alla mitologia folclore giapponese, allontanandosi totalmente dalla mitologia non rena. Ci tengo che lo vediate perché se siete appassionati la cosa vi interesserà sicuramente. Tralasciando questo, teorie esatte. Cosa vuol dire teorie esatte? Nulla. Non vuol dire nulla. Vi spiego perché, partendo da uno dei miei soliti mappazzoni. Sapete, ormai, ve lo ripeto sempre, sempre l'introduzione che faccio, io studio filosofia e quindi molto spesso in questi video mi lascia andare a questioni filosofiche in generale che ho studiato e che in generale conosco. Da Kant, quindi dal 1800, fai il tempo di metabolizzarlo il pensiero di Kant, dal 1800 il concetto di verità ha smesso di avere l'importanza che molti gli danno tuttora. In campo filosofico prima e in campo scientifico poi. Il concetto di verità viene sostituito dal concetto di coerenza. Perché? Perché si capisce che la verità, qualora ci fosse, qualora ci fosse, non sarebbe raggiungibile. Perché nel momento in cui noi ci approcciamo a qualcosa, lo corrodiamo quasi, con la nostra stessa presenza, con la nostra interpretazione. Ecco, interpretazione. Questa parola è fondamentale. Alla verità si sostituisce la coerenza. Un sistema, ora, se coerente, è valido. Non vero, è valido ai fini della conoscenza. Il discorso ovviamente è più complesso di così, ma non ve lo sto a fare, anche perché avrei bisogno di strutturarlo meglio, qua sono senza copione, verrebbe fuori un casino. Cosa voglio dire con ciò? Che parlare di teorie vere, parlare di teorie esatte, scusate, è sbagliato. Vi spiego perché. Questo discorso che ho fatto sulla verità può essere traslato bene, secondo me, in ambito Pokémon. Perché? Perché Pokémon non è un brand che si riferisce alla mitologia. Non vuole essere un libro di mitologia Pokémon. Tanto che, se noi prendiamo Xernia, Siveltal e Zygarde, che sono ispirati a Ligdrasil, e prendiamo Ledda in prosa, se non sbaglio, in cui è scritto il mito dell'Ligdrasil, scoprirete che c'è a Zekka quasi nulla. Assolutamente niente. Zygarde, che dovrebbe essere l'equilibratore del mondo, è ispirato ai giganti, che sono l'esatto opposto. Giganti, non giganti, forze del caos, chiamiamole, Fenrir, Hell, e un altro che ora ho dimenticato. Tralacendo questo, Pokémon si ispira alla cultura in senso pop. Cioè, Pokémon prende della mitologia e ne fa una creazione. La distorce, se vogliamo. E cosa più importante? Pokémon le mischia le mitologie. Pokémon ha tante mitologie al suo interno, lo sappiamo benissimo. Dalla mitologia giapponese, alla mitologia ebraica con i Golem e con Grodon e Kyogre, fino ad arrivare a quella Norrena. E quindi, quanto senso ha collegare Pokémon a un'unica mitologia? E pretendere, attenzione, che questa sia la reale ispirazione. Adesso dico una frase che vi stupirà e magari, boh, non so, distrugge anche un mito, però a differenza magari di altri io ci tengo a chiarire le cose, piuttosto che crearmi un personaggio o un culto attorno. Io non credo alla mia teoria. Chi ci crede alla mia teoria? Chi crede che la mia teoria sia esatta? Io no. Perché? Perché lo so che Pokémon non fa così, lo so che Pokémon non riporta i miti, non vedremo mai parlare esplicitamente di un collegamento così forte, dal punto di vista mitologico, tra i giganti nordici e Arceus. Pokémon prende degli elementi, li inserisce nel gioco dalla cultura, ma Game Freak di mitologia non capiscono nulla, e io ne sono consapevole. Per questo, credo, sia assurdo parlare di teorie esatte, e sia assurdo fare teorie per il puro gusto di prenderci, perché è impossibile, perché le cose in Pokémon sono molto più semplici, di fatto, perché siamo noi a complicarle, Game Freak lo sappiamo. sta più sul semplice. Ed è normale, giusto così? Ora, interpretazione. Vi ho detto prima, nel momento in cui una persona interpreta qualcosa, quella cosa smette di essere ciò che era prima, diventa qualcosa di diverso. Quando un interprete, a livello linguistico, traduce dal greco all'italiano, nel passaggio da una lingua all'altra, si perde ciò che era veramente, dal punto di vista grammaticale, non so neanche come dirlo, dal punto di vista alfabetico, si perde ciò che la frase è veramente. Cambiano fisicamente le lettere. Questo è il senso. Noi possiamo interpretare il mondo Pokémon in tanti modi. Penso, penso che nessuno di questi sia vero. Perché, di fatto, non c'è un sistema. E allora, il punto del video, dopo otto minuti e mezzo, se non c'è un sistema, cioè, se non lottiamo per la verità nelle teorie, allora perché farle? Cioè, che senso ha a questo punto? È ovvio, allora calma. È ovvio che tutti noi, chiunque fa teorie, fa teorie per avere ragione. È scontato, ma non è per cattiveria, è logica, no? Non fai teorie per avere torto. Ti impegni affinché la tua teoria sia la migliore. Posso peccare di orgoglio e dire che in questo momento su YouTube credo di avere la teoria più coerente, più coerente, non più vera, più coerente. Riguardo a Pokémon Spade Scudo di YouTube, sì. Perché? Perché Saidonia non è ancora arrivato a quello a cui sono arrivato io. C'è arrivato meno bene e con un mese di ritardo. E con meno coerenza. Mentre la teoria che vi ho linkato in descrizione è una bellissima teoria, l'ho apprezzata molto, ma non ha una solidità logica. Si riferisce prevalentemente ad associazioni di immagini. Quindi, se ve lo dico io, che ritengo, e non ho complesse di inferiorità in questo momento, ritengo di avere la teoria più coerente e quindi, sotto certi aspetti, migliora. Se diamo a migliore il significato di più coerente. Ecco, io che ritengo di avere in questo momento un primato, non penso di avere ragione. Perché ragione di fatto non c'è. Il senso delle teorie, se non c'è una verità, è proprio quello di interpretare. L'ho detto all'inizio, credo, se non era la registrazione precedente. Noi, noi, e qui cito Cydonia, parafrasandolo, da una sua live su Twitch, io e lui, in questo caso, usiamo Pokémon come scusa per parlare di cultura. E secondo me il senso della teoria sta un po' lì. Non nel dire ok, è così. Perché non è così? Perché sappiamo che Game Freak è molto più semplice di così. Ma sta nel fare cultura. Il fatto che io interpreti il mondo Pokémon in senso nordico, cioè collegandolo al mito dei giganti, ha come fondamento solo il fatto che nei giochi si parla di giganti. C'è una lastra che lo cita. Vi linko anche il video teoria, tanto ormai ho linkato qualsiasi cosa. Ciò nonostante, Archeus, Dialga e Palkia vengono, a quanto pare, dallo scintoismo. Ora, non credete che io sia stupido. Io mi sono posto il problema fondamentale dalla mia teoria. Va bene, mitologia non rena è tutto, ma cosa legittima il collegamento tra il Giappone, quindi Game Freak, e la cultura occidentale? Uscirà un video, prima o poi. Ma si basa solo su quello. Ci sono centomila elementi che possono sfatare la mia teoria da questo punto di vista, ma non è quello il punto. Sfatate la mia teoria perché non vuole essere vera. Non è il suo intendo che poi dovessi sbagliarmi e lo sarà. Se poi sarà vera, ma mi farò un applauso. Ma non è quello il mio obiettivo. Il mio obiettivo è fare cultura. Con le teorie si fa cultura, con le teorie si interpreta. Sotto il video di questo ragazzo, scusami, non mi ricordo il nome, se stai guardando questo video ti chiedo veramente perdono. Ho lasciato un commento che ho apprezzato e l'ho scritto io, calcolate. E ho parlato di interpretazione. Cioè io non sto facendo teorie. Beh, una teoria di fondo, a livello generale, vuole cogliere nel segno. No? Io sto fornendo interpretazioni. È una cosa diversa. Interpretare da teorizzare. Certo, chiamare un video interpretazione Pokémon non è un gran che. Su questo ci siamo. Ma è questo il punto. Non è la verità. Ma magari Zazen e Zamazenta sono veramente giapponesi. Ma non lo so, non mi interessa. Non mi interessa. A me piace intrattenere con la cultura. In questo caso con la mitologia. Ma ho intrattenuto anche con la filosofia, con la letteratura. Intratterrò magari con la scienza, con i multiversi, con la realtà virtuale. Questo è il punto. Intrattenere con la cultura. Interpretare un mondo intero che è quello Pokémon in maniera coerente. Non in maniera vera. Perché se vogliamo trovare la verità nel mondo Pokémon allora buona fortuna perché la verità è che Game Freak fa le cose tutto sommato a minchia. Il bello di Pokémon penso non sta in Pokémon effettivamente. Sta nelle radici culturali che Pokémon esprime a un livello popolare. Pokémon è cultura pop. I riferimenti mitologici di Pokémon sono cultura pop. Il bello è andare oltre la cultura pop. E quindi quando io faccio il concept analysis su Capture dicendo che è l'unione dell'aridità e della fertilità non credo lontanamente che Game Freak abbia pensato questo per creare Capture. Lo deduco. Lo interpreto. Questa è la bellezza secondo me di Pokémon. Ne ho già parlato. La possibilità di fornire mille interpretazioni la possibilità di entrare in contatto con mille culture e se si è interessati scusate di scoprire queste culture. A me frega un cazzo della verità. Io non so se tutti la pensano così. Ripeto è ovvio che uno fa le teorie per andarci più vicino possibile ma è una conseguenza del voler essere coerenti credo e e ciò che mi piace di più personalmente delle teorie è è l'emozione che poi ti dà vederle è il sentimento di piacere che ti dà la connessione logica e l'unione di tutto in un percorso anche questo è Kant fra parentesi parafrasato alla alla bella e meglio perché ovviamente siamo su youtube e non sono all'esame buona penso di aver spiegato cos'è per me una teoria pokemon qual è il senso per me di una teoria pokemon parlare di verità parlare di teorie più esatte è sbagliato si può parlare di teorie più coerenti questo si è ovvio che io ritengo di avere la teoria più coerente ovvio anche che sono di parte però se non ritenessi di avere la teoria più coerente la cambierei no? e invece non l'ho fatto perché? perché per il momento ho questa convinzione è la prima volta da quando faccio teorie pokemon cioè dal 2014 sono sempre stato inferiore a sto giro penso di aver sbancato a livello di coerenza buona mi sto dilungando questo era il punto fatemi sapere ovviamente nei commenti cosa ne pensate è una cosa che penso di aver già espresso in live qualche volta ma poi non ho mai avuto l'occasione di fare un video che lo esprimesse bene e lo incidesse anche a livello magari di titolo di miniatura su youtube se vi è piaciuto lasciate un mi piace un commento un'iscrizione io vi ricordo assolutamente il video è in descrizione perché se siete interessati alle teorie quello è un bel video quello è un bel video spiega tante cose bene sfata tante cose bene ed ha un'interpretazione originale per il resto social campanella se volete rimanere sempre aggiornati sui video che altro niente noi ci becchiamo ragazzi in un prossimo video non so bene quando penso domenica se state vedendo questo video di venerdì quindi noi domenica ci si becca probabilmente con un critical hit un saluto ci vediamo